A Copertino i commercianti della zona nota come Lago Rosso iniziano a essere insofferenti e molto stanchi a causa dell'ennesimo furto subito. Nel corso delle ultime ore infatti un'attività ha subito un furto. Se nella notte fra l'11 e il 12 settembre i ladri hanno preso letteralmente a martellate la vetrata del negozio d'abbigliamento Zero Plus per rubare capi per bimbi, questa volta hanno forzato l'infisso della porta d'ingresso della caffetteria di Viale Regalantuomo. Il bottino preciso non è stato quantificato. I ladri, per quanto se ne sa, hanno sottratto di sana piante il registratore di cassa e la macchina cambia soldi da svuotare con calma in un luogo appartato, probabilmente in mezzo alle campagne. Il locale non ha un impianto di videosorveglianza e questo rende complessa l'identificazione dei responsabili da parte dei carabinieri della tenenza. Dunque non si sa quanti fossero i malviventi e con quale veicoli si siano mossi. Effrazione e furto sono stati commessi nell'arco temporale che va dall'una circa di notte quando il figlio del titolare ha chiuso la caffetteria alle 5 del mattino, nel momento in cui la madre è arrivata per inaugurare un nuovo giorno di lavoro, salvo trovare la porta già spalancata. E intanto chi possiede attività commerciali nell'area inizia a essere inquieto. Sembra che presso gli uffici comunali e le forze dell'ordine siano già arrivate nei giorni scorsi segnalazioni dovute al fatto che zona Lago Rosso, nelle ore notturne, sia poco illuminata e sorvegliata. E il fatto che i colpi si ripetano in rapida successione sembra in effetti dare ragione alle lamentele.